un benvenuto a tutti da meteo groane buona giornata quella di oggi soleggiata in attesa del prossimo pregiornamento di domani e di venerdì mattina i dati registrati dalle nostre stazioni ecco vi sto mostrando la nostra carta 2 2 la minima di bollate 3 8 quella di cesate 1 e 2 quella di ceriano laghetto vicine quindi abbastanza vicine allo zero scusate le immagini le massime eccole qui 12 e 2 a bollate 12 a 7 bollate come a cesate e 12 e 3 anche a ceriano laghetto ecco le immagini del satellite perché in peggioramento abbiamo già ne avevamo già parlato in bollettini scorsi perché il centro di bassa pressione sulla spagna si sta muovendo verso levante e quindi coinvolgerà anche le nostre regioni nord occidentale il nostro territorio del palco vedete la perturbazione che pian pianino si avvicina all'italia e alle nostre regioni se andiamo a guardare la situazione del 24 sera 24 novembre sera la situazione termica vedete molto fredde le alpi e anche l'oltre alpe vedete la germania in parte la francia e in parte l'estero europeo come sono colorate di questo blu intenso temperature sotto zero quasi blu potremmo dire al graffino alla padana perché le temperature sono rinunite più calde naturalmente le regioni centro e meridionali dal radar ecco le precipitazioni quelle della perturbazione che sta per raggiungerci e ci raggiungerà domani infatti il modello di reading il modello matematico di reading che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria ci fa vedere per oggi vedete ancora la depressione sulla spagna e ci fa vedere domani come questa depressione già sul golfo del leone e quindi le correnti si orienteranno in modo perturbato anche sulle nostre regioni apportando precipitazioni che continueranno anche un po venerdì mattina soprattutto nelle prime ore della notte diciamo così per poi cessare e ritornare poi presenti vedete sabato con un altro fondo più perturbato e più freddo ancora sulle nostre regioni quindi tempo in cambiamento precipitazioni temperature che si abbasserà e nevitate che si abbasseranno pure fino a 700 metri di quota ecco la carta al suono presa per domani la bassa pressione sul golfo del leone e la perturbazione amessa che entra sul nostro territorio ecco le previsioni domani 25 di novembre giovedì un cielo coperto al mattino poi pian pianino peggiora e comincia nelle prime precipitazioni 6 la minima 8 la massima neve a 900 metri venerdì ancora durante la notte qualche precipitazione la neve cadrà 700 metri poi pian pianino verso sera il cielo comincerà un po liberarsi ma saranno presenti fostiglie sabato ritorno nelle precipitazioni più 4 più 7 e temperature neve oltre 700 metri bene ringrazio dell'ascolto video per l'appuntamento domani mi auguro un sereno giuridì 25 di novembre da metri augurare una rivederci a tutti